Salve a tutti, io sono TheLongamer e benvenuti su questo speciale episodio di Gmod ProPant in una spettacolare mappa di Minecraft E oggi siamo in compagnia di Spawn e Camper di iNubChannel e di Phantom Chi riuscirà a trovare il fantomatico posto leggendario? Buona visione! Ma Phantom non ha capito che deve nascondersi Sì, Fanto! Aspetta, aspetta Camper, stavo sentando Sì, tranquillo, è un vecchietto, diamogli un attimino di tempo, su, signore vada pure, non perda la dentiera Guarda, faccio come nascondino, mi metto dietro un albero e mi metto a contare Sì, ma Camper mi sta seguendo Nove No, no, tranquillo No, no, stiamo contando, siamo onesti Otto Onesti Sette, siamo onesti e ti guardi attorno, Camper Ok, ok, dai Sì, ma no, un attimo Guardalo lì, guardalo lì il blocco di diamanti L'ho visto! Senti, facciamolo fuori, dai, mettiamo fine alle sue nostre sofferenze Oh, oh Sì, ma mi siete visti davanti alla porta in cui volevo passare Ma non è colpa nostra Cos'è, rispawn? Guarda, se vuoi puoi infierire Niente di grave, Eros, quanto Niente di gravido, niente di gravido Sì, sì, è un gabbiano, un gabbiano, quindi devi essere in cima da qualche parte Ok, seguimi, seguimi, seguimi Sono di sopra, vicino alla stanza misteriosa E per chi non conosce la stanza misteriosa Voilà Definitivo Merda Merda Ah, sono caduto Quanto ti vedono se stai lì? Lo so Sono riuscito a scappare a uno che mi stava per vedere, non so come Allora non sono io, porco cane Ah, eri tu, mi sa Sì, sì, eri tu Andiamo in due camper, andiamo in due camper Non vorrei fosse dietro una colonna, quindi meglio camminare all'indietro Perché si sta alzando il blocco centrale? Ops Oh, oh, che avete fatto? Aspetta che... Come si usciva da sto posto? Ah, da di qua, da di qua, aspetta Abbassati sesamo, perfetto Di saltare con CTR Eh, sono un hubbo, sono un hubbo in maniera incredibile Cosa avete fatto? Wow Questo era giù un secondo fa Chi va di sotto a controllare? Vado io Spawn, ma non ne hai visto niente che ero praticamente... Ma è di sotto? Ehm... C'è un problema Guardalo! Non so come tornare là sopra Ah, ti butto una corda? Grazie Non ce l'ho, forse sega Sei finito giù? Sì, ma sono vivo, incredibilmente Allora, facciamo così Anche il signor prop dice si fantomi, venga giù Ok Aspetta, arrivo anch'io, eh Ma come sono morto? Ma what? Come sei morto? Ma sono morto Ma no, stavo arrivando a guardare io Mi sono schiantato contro non so cosa, sono morto Lo so, ti ho fregato alla grande Sapevo che la gravità ti avrebbe ucciso Ma perché i prop non possono passare lì? No, è come da un attimino un po' di lava Aspetta, adesso dobbiamo esconder noi Ok, seguimi, seguimi Non Si seguo maestro, mi illumini, mostri la via Spoon, aumenta il volume delle pizze Diventa uno di questi Ok E mettiamoci qua sotto Qua sotto? Aspetta, allora sono un po' evidente io Aspetta un secondo, facciamo così Questo è meno evidente Ok, non è male, non è male Come sei? Sono qua Non ti vedo Nemmeno io non ti vedo Non mi vedo, non vedo neanche me stesso È buggatissima sta cosa Oh mio Dio Oh mio Dio Quindi diventare uno di questi blocchi ci rende invisibile, davvero? Veramente Cosa? Non lo sapevo Incredibile Io non vedo l'on E l'on non vedete Ma nemmeno io vedo te, non vedo neanche me stesso Ma sono blocchi giganteschi, com'è possibile? E direi Sì ci vedono Spawn Ma che giù si è? Doppia con un corpo si chiama questa? Cosa? Ma cosa ha fatto la doppietta? Con quale velocità Spawn? Ma no, ma noi non ci vedevamo Ma si vedevo molto bene Offesissimo Tutto il contrario di quello che dovrebbe essere nascondino Sì Ma no, delusissimi Spawn Dove siete? Oh l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto Dove, 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 dove? È di qua, di qua, di qua, di qua, di qua, di qua, di qua In questa stanza È qui dentro Ok, allora mi muovo Il mio è ai limiti del leggero Dove, 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 dove No, morto, perfetto È il camper di merda che si mette davanti alla porta Guarda che sto posto Ah, ah No, mi ha bruciato il fuoco Mi essere attenti, c'è il cadavere indemoniato Sì, credo che sia morto un attimino Fanto, ma tu cos'è che eri? Ero Niente che tu possa vedere Cos'è successo? Ho solamente un po' infierito No, cioè, vorrevi essere sicuro che fosse morto? Sì Diciamo che adesso lo è Comunque, io oserei dire che il mio posto è ai limiti del leggendario Ho trovato il suo cuore O credo sia il suo cuore Cos'è? Ah, mi sembra piaciuto teschio Non lo so, eh, che schifo Non posso prenderlo, che peccato Non ho cenato per pranzo, me lo mangiavo così Forse ho capito, ho capito, ho capito Oh no Arriba, arriva, 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 arriva Spawn lo scopriremo solo quando saranno vicino a te Di qua, di qua Di qua Ah, sono caduto, aspetta Aspetta, aspetta, aspetta Non mi sono dimenticato come si cammina dritto Oltre questo muro Credi come... È tipo Binello 7,3,4 Sì Sì Ma ancora? Ma ancora? Sai come lo sapevo? Ma colpo sicuro Perché ieri sera avevo usato il tuo stesso trucco Sono diventato una delle sedie Ah, il primo corpo mi avete beccato C'erano mille blocchi Quindi sapevo che c'era un'unica sedia in questa stanza Oh mio Dio Ma io Fanto non lo vedevo dentro di me Cos'è che era? Come Fanto non lo vedevo dentro di me? Una carpettina di... Di... Eh perché in questa modalità di Gmod che facciamo noi Appena muore uno L'altro prop diventa pure quello che era quell'altro Eh ma ero più piccolo di te Come se non fosse già bastarda sta modalità Esatto Quindi se sei un distributore automatico Fanto muore Io poi divento un cubetto di Minecraft Con sopra un distributore automatico Sì, purtroppo è già successo Sì, nel nostro episodio E per fortuna che non c'è un distributore in Minecraft Dove sei no? Ho visto qualcosa muovere su quel ponte? Oh! No, Spawn Cosa? Lo faccio no look? Sparmi una gianta dentro Ho trovato un posto leggendario ragazzi Sei serio? Spawn Questo è un posto leggendario Leggermente citoso ma leggendario Ricordami se morirò Spawn Vai, fallo Lancia una grata a trarre Mamma lì dentro mori sicuro Fanto Addio! No, ottimo Hai lanciato una grata nella stanza dei cubi? Perché sei là dentro? No, assolutamente no No, no, io lo so il posto Perché questa mappa l'ho già toccata Guarda, ti faccio un leggerissimo tow Vado di piccione Di gabbiano Lon, io mi sa che lo so dove sei Perché una volta lo trovo anche io quel posto Ah sì? Vediamo se ci arrivo Lon, non puoi capire che ho fatto Cosa hai fatto? Non puoi capire che ho fatto Basta che non sei morto Dove se non sei morto? Mandami una foto su Whatsapp Gli faccio un altro taunti nel frattempo Gli sfotto senza un minimo di rispetto Dove sarà TheLongamer? I misteri È là dentro secondo me Ma sì, è sicuramente nella stanza là dei cubi Ma allora non mi vedete in sta stanza? Ma dove sei? Cioè, continua a fare il gabbiano Fanto, ma è qui? È qui nella stanza, ma non vi vedete, cavolo? Ho chiuso tutto Ho chiuso tutto L'abbiamo tappato Non può più scappare Fanto, è qui alla mia destra Guardami Alla tua destra Ma mi sentite che cammino? Ma è qua dietro sta parete Ma si può andare Ma io ce l'ho già stato Ciao, Lon No Ma eri pure umano per sfotterci Oh mio Dio Questo posto non l'avamo mai visto però No, questo Beh, ne valsa la pena Ne valsa la pena Dai, vi ho dato tanti indizi Ma quindi, camper, adesso è pure un vecchietto? No Camper, bel posto Vero Complimentoni Perché non taunti un po' camper? Ma sto tauntando da 40 minuti Eh, continua Oh mio Dio, lo vedo Oh mio Dio, l'Ender Dragon Spawn, perché l'hai sponato? Cosa avete combinato? Perché c'è un fottuto drago? Guardali come ho tentato di buttarlo giù Dov'è? Abbattilo Aiuto, è sopra di me Vabbè, io sono già morto Sono a porto È dietro di me? È dietro di me? È dietro di roba Quindi è dietro camper Quindi l'hai detto Mi interrere in questa zona Scusa camper È qui Perdono camper Ce la puoi ancora fare No, mi è entrato tutto lo schermo nero Non so perché Io sto bruciando Oddio No, come hai fatto? Cacchio C'è lei, levi così fregati Veloce, veloce, veloce Veloce, veloce Veloce, veloce Grandissimo, grandissimo Ottimo, ottimo Si è aperto il cancello, spawn Camper, bei posti oggi c'hai Oh mio Dio Hai visto che ho fatto l'on C'è veramente dei bei posti Hai visto che ho fatto prima Il mio cavolo Qua Sei stato grandissimo Quando ti sei fermato Non se ne sono accorti Ciao camper No Un panino in piedi Prima stavo scappando Ho preso un blocco Ho preso un blocco di magra di terra L'ho mosso E mi pensavate fosse lui Sì, infatti La trollata finale è stata Beh, li abbiamo trollati bene Sta partita Io dietro una parete E tu col cubi e il resto Mi spiace averlo detto lì Ehi, è passato sopra la mia testa Non ci ho pensato Sì, sì, ci sono Perché sono stra concentrato Ciao spawn Secondo me in bagno Ciao spawn No Ok, dove andiamo di bello? Signor uomo delle nevi Non lo so Entra dentro di me, Fanto Non ci risco Ragazzi, avanti Queste cose le fate tra di voi Non farlo Non ci risco No 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 Vabbè, non ci credo Come l'hai pigliato Non ci credo Cos'è la partita più veloce della vita? Ma non ci credo Ho sparato a caso Ma no Hai doppia Ho sparato a caso Complimento No, davvero Non so cosa è successo Ma bravissimi Ma ci ha preso il panico E ci siamo nascosti in un posto troppo stupido Aspetta Ok Ok, buono Buono Non male, non male Non male È un buon posto È leggendario? No No, no Però diciamo che È difficile trovare qua Nessuno guarderebbe in sto punticino Ho visto qualcosa muoversi No, non mi hai visto Pum Beccati un gabbiano Pum È qui No È morto L'abbiamo preso subito Stavo cercando di raggiungerci l'on Cosa era? Era un blocco di diamante Allora No, vedo un vecchietto che si aggira da quelle parti lì Entra in una casetta Dove sei? Sono qui Sono qui Ok, sei qua Quindi se ti vede È fuggito Col cacchio Ma no Ma come è fatto? Con quale precisione Ma dai Ma è un cecchino Oh mio Dio Quando sono scarsi a questo giochi Non miravo neanche lì Il proiettile ha tipo deviato È così Sarò io con la mia sfiga che attiro i proiettili Ma porca di quella porca È così che ci sento davvero Tipo i cheat allora No, vabbè Ma ho capito Cioè Della serie appena ho detto una cavolata Subito Ehi, so dov'è È lì sicuramente C'è un segugio Fanto Nascondiamoci in un posto sensato a sto giro Ok Aspetta Diventarono l'ender dragon Ho un'idea Fanto vieni con me Fanto vieni con me Ok E ci date altri 30 secondi bonus Che se no non riusciamo a nasconderti bene Dai, va bene Diamogli un po' di bonus E' bello quando ti dicono anche quando puoi venire e quando puoi non venire Molto moderno come rapporto Fanto? Aspetta sto Non ancora Sto facendo Non ancora Sto facendo una cosa 2 minuti e 48 secondi tesoro Guarda No Guarda Spoon Facciamo andiamo Cos'è? Oh ah 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 Sì Sono troppo felici Dobbiamo andare adesso Prego E siamo a venire? Sono straconvinto Di sapere dove siano Sei andato molto a colpo sicuro Ma perché c'ho uno con un Lamborghini sotto casa che va facendo un casino nella madonna? Guarda qua Guarda qua C'ho una ma mezza idea anch'io eh Ho barricato tutta la zona Fanto, fanto Poi Poi hai capito Allora io passo da sotto Me lo tale per evitare che fuggano Tu beccali da sopra Torna qua sopra Non Ci sono cubi dovunque qui Che cavolo di casino hai fatto? E li ho buttati giù E li ho buttati giù Fanto Sto bloccando tutto Fanto Che stanno facendo? Li sto sparando Fanto Che casino è sto qua? Buono Porco cane È di sotto È di sotto È di sotto È di sotto Fanto È passato dal buco È passato Ma non sono di sotto Scappa Scappa No non è questo Torna qui sopra Non Ma l'ho visto scendere dal buco Ma non è vero Eh invece No Dove sei? Vieni qua No ci sono troppi cubi Dove sei andato? Dove sei andato? Non ti vedo Non ti vedo proprio No 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 Vieni qua Vieni qua Vieni qua Porco cane Dove sei andato? Dove? 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 No Eccolo Aspetta 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 E' qua dentro E' morto? L'hai pigliato Era qua dietro Guarda dove era Ero uno dei blocchi Che aveva buttato giù camper Come hai fatto? Mi sono buttato sotto i blocchi Così non avreste mai sospettato di me Geniale Ragazzi ma la mia radio la sentite? No Come no? 10 9 Dove sei? 8 8 Merda 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 Non è uno di questi Direti No Eccolo Eccolo Oh ragazzi Ho 190 di vita E' per quello che non muoio No 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 Dove? 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 Ma come c'è 190 di vita? 190 Avevi? Avevo ancora 111 di vita Me ne avete tolta 80 Perché? Porco cane Che culo È un blocco di sabbia Ragazzi La sabbia resistente Ma che cosa? Ai proiettili Ma aspetta I blocchi hanno differenza l'uno dall'altro? Buoh quello di granito non riuscivo a alzarlo Tipo ad esempio Vieni 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 Seguimi Vai vai Aspetta che mi sono incartato Ce la fai? Si Beh ce la faccio Di qua Di qua Di qua Dove sei andato? Mi vedi? No non ti vede Vieni da me Vieni da me Eh tipo qua Siamo qua Qua? Qua? Qua è un indizio chiarissimo Qua sopra dici Qua sopra non ci vede Esattamente Sopra Vabbè però li vediamo noi Guardali là in fondo Vuoi andare all'inferno Spawn? No Come sta fatta che siamo lì? Aspetta Non parto di taunt Buttiamo tutti i blocchi all'inferno Spawn Ho sentito un gabbiano Sì anch'io È qui nella zona erbosa E i famosi gabbiani d'erba È una specie di minecraft molto diffusa Se buttiamo tutti i blocchi qua sotto Spawn Ah ma io vengo a bruciarmi E loro non avranno niente per trasformarsi Ah è vero Ottima idea Ottima idea Cacchio Veramente un piano malevolo ragazzi Sto anche saltando Tanto mi sento pro Ci vedi? Eh vi vedo Siete lì che spostate blocchi Io non lo sto facendo È una menzogna Ci ho provato Valeva la pena Spawn Ah Con un proiettile Con un proiettile Un panino Un panino di profilo Ma si spara i panini Guarda sprecare il cibo così mi fa veramente incazzare Quindi Se l'ho nel camper nella stessa zona Camper si insegna come al solito Deve esserci Lo so Ho dovuto spostarmi perché altrimenti E non voglio sapere dove hai messo il panino Deve essere di nuovo dietro Qualche albero di questi Controlla gli alberi Spawn Dai ragazzi un minuto e trenta secondi Guarda come corrono i cubi Cosa va a buttare cubi lì sotto Cosa vai Cosa hai fatto Si è mosso questo È camper Corri 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 È un blocco di terra Con i proiettili Mi fitto No No Con quanta rapidità Con quanta rapidità e violenza Un blocco che Muove un blocco di terra Lo guardo E rimane fermo Non c'è la levitazione in Minecraft Mannaggia Stavo testando le prove di Stavo testando le prove di fuga Sì ma Phantom È un cecchino Vabbè il panino ha un HP Quindi appena ti sfira un proiettile Sì ma un proiettile Cioè proprio Cecchinaggio con un mitragliatore Ma tu lo attiri proiettili Non so per quale motivo Beh purtroppo si conclude Anche questo pazzo episodio In descrizione Trovate i canali Degli Ainube di Phantom Fateci sapere nei commenti Se volete altri divertenti episodi In loro compagnia Beh non so voi Ma io mi sono divertito tantissimo E spero che sarete con noi Anche nei prossimi video Quindi lasciate un bel mi piace Per continuare la serie Condividetevi sui aiutare Il canale a crescere E noi ci vediamo nel prossimo episodio Ciao 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 ciao